Agrium è strategicamente importante per l'agricoltura piemontese perché la ricerca e l'innovazione è il futuro della nostra agricoltura. Sappiamo che in regione Piemonte la nostra agricoltura è all'avanguardia e soprattutto anche molto sostenibile e questo è dovuto alla continua sperimentazione che Agrium e tutte le associazioni, le fondazioni come Agrium fanno per il territorio. Noi come Anci abbiamo già lavorato con Agrium, stiamo lavorando braccio a braccio per divulgare quello che è la sperimentazione e il lavoro di questa fondazione così importante per i beni del territorio, degli agricoltori ma soprattutto anche di tutta la popolazione che trarrà sicuramente il giovamento da meno trattamenti e più agricoltura sostenibile.